Il provvedimento che si è preso, per cui i cani potranno uscire tre giorni sì e tre giorni no. È stato adottato ieri a Comune di Napoli, lei che cosa intende fare ora dopo questo provvedimento? Ispettare gli orari. Per cui il cane per tre giorni dove lo farà fare? In casa. In casa, in quale luogo della casa? Nel bar. In camera vossa. Ci dica perché in camera vossa? No in camera, no nel bar. Solo nel bar, sulla tazza? Sulla tazza, che lui già sa dove si deve sedere. Ah già è abituato, è abituato. Chi è che l'ha abituato? L'ha abituato io e quando lì scende non si trova per strada. Ho capito. Ti posto il seccello. Ok, come fa? Alza un pochettino la gamba. Faccia vedere lei, faccia vedere lei. Così alza la gamba oppure si girona. Aspetti un attimo, vi faccio rivedere un altro. Alza un po' la gamba e che fa? E che fa? La pipì, la pipì. Come fa? Solo acqua, solo acqua. Solo acqua. Solido. Diverse volte. Diverse volte al dì. Sì, sì. Solido. Liquido. Solo liquido. Sì. Ho capito. Solido quando si siede. E come è questo solido? E faccia vedere anche il solido. E fa così e poi... No, 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 prego, 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 faccia con voi. Si mette così sulla tazza, sulla tazza, si mette così e fa tutto quello che deve fare. Ho capito, perfettamente. La posizione è comoda. Per cui solido è? La cacca. È liquido, eh? La pipì. Solido è liquido? Solido è liquido. Bell'amico? Pappi. E invece vorremmo sapere ora qualcosa perché riguarda lei, 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 lei. Ora abbiamo parlato del solido e l'ico del cane. Per quanto riguarda lei invece? Beh, segua la regia. Seguo la regia. Che ecco di correre dietro. Ah, benissimo. Si abbassa un altro, si abbassa un altro. Muove il lentometro, muove il lentometro. Muove il lentometro. Qual è questo qua? Muova. Sì. Muova subito. Eccoci qua. Perfetto. Quindi quando vedete una bella ragazza le girano gli occhi. Esatto. Perfetto. Allora salutiamo nella maniera vostra tradizionale. Via. A boar. A boar. Oui. Parlez-vous francese, monsieur. Je parle francese comme niente fosse. Parlez-vous francese, mademoiselle. All'âme de qui te vive, que visage de fesse. Oh là là. Oui. Vous parlez en d'occhen? Yad yawol. Oui, tabel pour la raffin. Spavante caput. Parlez-vous francese, mademoiselle. Comment allez-vous très bien? Perfetto. Allora, vous voulez, Mohammed Khalif, n'a-s-moumouk. Au-mouk, salam-a-ch-les-ma. Amok du so-bas. Yaa, 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 vabbà. Amok, amok. Aleksalaam. 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 Sì. Vabboli, vabbè. Martorizzata. Martorizzata. E' una città, come sappiamo, in Napolitano è un popolo di merda. No, meridionali. Meridionali, però diciamo. Ho capito. Che pu, che pu. Che pu. Che pu. Puh, abbondante. un puo abbondante, che pure, che pure, che pure, questo è un popolo, se abbassi così, è un popolo che fie, fie, chiede merda, che fievolizza, fievolizza tutto, tutto ciò che c'è, 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 c'è sta ogni momento, ogni minuto, sempre, ho capito, ho capito, cacà, c'è, cacà, re, cacà, to, cacà, ne, cacato, viò, cacampania, si, ponticelli, ponticelli, grazie ancora, di argine, prego, grazie ancora, perfetto, un saluto dall'amico dell'uno, non li vogliamo affrontare perché tutte le trasmissioni affrontano i problemi di Napoli, su che senso, su che senso voi, parlare della nostra città, che è un po' martoriata, lo so, dico, sono parlato, che è un po' martoriata, una città massima, si, 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 aspetta un minuto, conti fino a tre, io posso muovere l'auricolare, scusate, si, 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 aspetta un attimo, via, uno, due, dica tre, tre, perfetto, vediamo la voce atmosferica, come uno, due, bravissimo, no, no, vedo che lei ha rispetto, uno, due, tre, uno, due, tre, prova, 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 bravo, 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 veramente, ecco, va benissimo, va benissimo, senta, allora, un aneddoto, un aneddoto che ci può raccontare, su quello che prima ci ha detto, della nostra città, no, no, su che cosa? su quello che ha detto prima lei? se la città è martoriata, no, 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 su quello che ha detto prima lei? prema questo pulsante in continuazione cosa ho detto prima? eh no, se dica una cosa qualsiasi ah, va bene, una cosa qualsiasi, che Napoli è una bellissima città, noi la amiamo e tutti i cittadini sono tutti di buon cuore, saluti su saluti su, 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 al nord su, al nord, saluti saluti al nord, che sono tanti, tanti laboriosi e buonanime come noi napoletani perché noi napoletani siamo una una famiglia no, no, siamo, e dicono che siamo una una martoriata una me una me un'America no, una me una metropoli ah, una metropoli, bellissima, si, si, si che pure che pure che pure, bravissimo fie 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 fie, si, si no, fie fie, fie 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 finisca, fie si è finita no, fie finita fie finet fie 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 questa è una città, abbiamo detto metropoli, no? ecco che pure fie fie no, fie fie fie, che cosa? fie, eh, che cosa? una cosa, si è bella fie fiesta 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 benissimo complimenti, lei ha vinto il premio per viva le donne viva le donne è indovinato il nome della concorrente che partecipava ecco ovvero sia la signorina la signorina fiesta 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 insomma viene rasmesso non viene rasmesso viene mandata a Milano selezionata se andranno bene verranno trasmesse se non andranno bene panalo 5 faccia in diretta per così sia faccia in diretta 3, 4